Ma perché continuo a ripetere le stesse cose da anni? Tutti pensano che io sia capace di capire quello che succede, di interpretare la realtà. Ma io non capisco più niente. Grande regista, grande. Grande, 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 eh? Sensibilità! Ma intanto, lo sappiamo che è così. L'abbiamo già deciso, no? No, non l'abbiamo deciso. Tu l'hai deciso. Margherita, fai qualcosa di nuovo, di diverso. Dai, rompi almeno un tuo schema. Uno su due scelte. Tu non dire stop! Non ti ricordo una battuta! Una sola battuta! Sei stanca? Eh, sì. Capisco che sta attraversando un periodo complicato. Anzi, se ne ha bisogno non si deve preoccupare. Sai, l'azienda le può dare ancora qualche mese di aspettativa. Non serve perché ho deciso e sono in cambio di idea. Mamma! Dormi. Dormire. Padre. Dormi. Dormi. Un momento. Dormi. 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 Grazie a tutti.